Bene, possiamo iniziare. Mi scuso se rivolgo questo brevissimo indirizzo di saluto, se lo faccio da seduto, c'è qualche esigenza di collegamento. È un pomeriggio importante dedicato a Pierpaolo Pasolini e avremo l'occasione oggi di seguire interventi di grande interesse. Saranno coordinati dall'accademico Fabio Danelon e il primo intervento sarà quello di Valerio Terraroli e successivamente quello di Gerardo Ugolini. Sono soci dell'Ateneo. Anche in questo modo l'Ateneo riconferma questo ruolo che si è assunto e che si è sviluppato nel tempo di essere un elemento che finalizza e che sollecita riflessioni su temi come quelli di oggi. Ecco, non era nemmeno previsto che io vi dicessi qualche cosa, quindi l'aspetto positivo è che posso finire immediatamente chiedendo a Fabio Danelon di venire qui un attimo e probabilmente sarà il professor Danelon che darà anche un'indicazione sia delle coordinate sia anche un minimo immagino di presentazione dei relatori che ci interterranno oggi pomeriggio. Prego. Grazie innanzitutto al Presidente per il suo indirizzo di saluto. Benvenuti a tutte e a tutti. Questo incontro è stato pensato in realtà sia da me sia dal professor Terraroli ed è una delle numerose ricorrenze pasoliniane che vengono celebrate quest'anno. Nell'anno centenario, in questo anno centenario in realtà ci sono state numerose altre ricorrenze. Quella verdiana che abbiamo celebrato un paio di settimane fa, ma per rimanere, parlo solo del mio mestiere e naturalmente agli scrittori italiani del Novecento, quest'anno sarebbe stato anche il centenario di Luciano Bianciardi, di Luciano Erba, di Beppe Fenoglio, di Luigi Meneghello, di Giorgio Manganelli rimanendo in Italia, ma sono anche i cent'anni della morte di Proust e i cent'anni della pubblicazione dell'Ulisse di Joyce. Ecco, tutte queste cose che ho elencato in modo raffazzonato non hanno avuto nemmeno un milionesimo delle celebrazioni che invece ha avuto Pasolini. perché Pasolini, come è noto, è diventato, come usa dire, non è bella l'espressione ma la sostanza corrisponde, è diventato un icona pop, per cui in realtà al di là della sua qualità di scrittore, di autore cinematografico, di autore teatrale, di pittore, di critico d'arte e di mille altre iniziative, di intellettuale a tutto tondo, ha assunto anche una connotazione simbolica nel nostro immaginario collettivo per cui gli sono state attribuite le più diverse cose. Ecco, l'originalità della giornata odierna è data dal fatto che il professor Terraroli e Dio ci soffermeremo su due passaggi bresciani di Pierpaolo Porglini, sui due più importanti passaggi bresciani. Ci sono anche stati dei passaggi privati, ma quelli non li toccheremo. Questi due interventi, Pasolini e Brescia, Pasolini e Brescia, abbiamo dato un titolo, come avete capito non ci abbiamo pensato dei giorni e giorni a decidere il titolo. E' venuto naturale, ma in realtà fungiamo anche da, non so se da Cariati, però da Dio Oscuri di Gherardo Porglini, che terrà la relazione più strutturata e più strutturale dell'intervento che riguarda Pasolini e l'Antico. Quindi noi ci occupiamo delle cose di Pasolini e Brescia, dei due interventi pubblici di Pasolini e Brescia, e il professor Lugolini, invece, farà una trattazione di più ampio respiro su Pasolini e l'Antico. Il mio intervento sarà breve, ho raccomandato all'amico Terraroli di farmi dei segni se mi dilungassi, e si soffermerà soltanzialmente su due aspetti, relativi uno all'intellettuale scrittore e uomo di cinema, Pasolini, e l'altro relativo a un momento della storia della cultura a Brescia negli anni Sessanta, in particolare di una certa cultura civilmente impegnata. So da pochi secondi che il professor Terraroli ci riferirà ad un altro inedito pasoliniano. In realtà qualche anno fa mi è capitato di, grazie a un fortunato ritrovamento nel fondo Renato Rovetta dell'archivio storico Bisio Savoldi e Lidia Voltardi Milani, della Camera del Lavoro, di rinvenire il testo, di rinvenire il nastro che conteneva la registrazione della conferenza marxismo e cristianesimo che il Paolo Giovolini tenne a Brescia il 13 dicembre del Sessantaquattro. Il testo della conferenza in effetti era già noto, non era però stata possibile fino all'altro anno appunto recuperare la versione audio e intanto lo scritto è andato perduto. Quindi un elemento appunto di interesse che ha portato anche poi alla pubblicazione della ristampa con le correzioni, con alcune piccole correzioni filologiche della conferenza accompagnata dall'audio, dal sonoro in mp3 della conferenza stessa, ecco l'audio è una cosa nuova. Ecco quella conferenza che è la primo evento pubblico di Pasolini a Brescia, si svolge appunto la mattina del 13 dicembre del Sessantaquattro e si svolge al cinema Brixia in via San Faustino, subito dopo la proiezione del Vangelo secondo Matteo. Fu pubblicato inizialmente come inserto sull'eco di Brescia del 18 dicembre Sessantaquattro uscì poi in un fascicolo che si intitolava appunto Marxismo e Cristianesimo, curato dalla Fondazione Calzari Trebeschi nell'Ottantacinque ed ora è inserito all'interno dei meridiani che contengono tutta l'opera di, tutte le opere di Pasolini nel volume sui saggi sulla politica della società. Mi piace ricordare che una parte di quel testo si trova pure in un'antologia scolastica, città dell'uomo uscita da Principato nel Sessantaquattro, curata da uno dei buoni maestri della nostra città che fu Mario Lussignoli. Ecco, la registrazione era comparsa e comparsa in occasione del quarantennale della morte di Pasolini. È una mera coincidenza, eh? Però anche qui c'è una storia divertente, rubo un paio di minuti, tanto c'è Valerio che mi controlla, in un articolo che uscì su D'Orso Bresciano del Corriere della Sera, io avevo parlato dicendo speriamo che qualcuno un giorno ritrovi anche il sonoro, ma sono quelle dichiarazioni un po' così, che si dicono in una speranza non realmente coltivata. In realtà alcuni amici che lavorano all'archivio della Camera del Lavoro, oltre all'amico Pippo Iannacci che lavora per la Casa della Memoria, si sono dati da fare, insieme a me, ma molto più di me, per cercare questo nastro. E il nastro alla fine è saltato fuori. Delle volte le speranze giungono anche a realizzarsi. Per cui io spiego il mio ringraziamento anche pubblicamente, lo rinnovo, alla Fondazione Calzari Trebeschi, in particolare alla sua presidente di allora, Anna Mabellini, e alle persone che lavoravano all'archivio della Camera del Lavoro in quel lasso di tempo, perché è stato un aiuto, un supporto essenziale, per un volumetto, che adesso non lo faccio vedere, che mi sembra di fare pubblicità un libro curato a me, però è uscito per un Icopli nel 2015, appunto per Paolo Pasolini, Marxismo e Cristianismo. Ecco, il circolo Grimao, quindi bisogna fare una nota a piedi di pace, perché oggi Julian Grimao, credo che tranne Valerio e io, altre due persone, nessuno si ricorda più chi era. era un... Julian Grimao era intitolato un circolo, Julian Grimao era un dirigente comunista spagnolo che fu ucciso dal regime franchista il 20 aprile del 63, la cosa un po' singolare, cioè tragicamente singolare, è che fu condannato dal tribunale, dal spagnolo franchista dell'epoca, non per reati recenti, ma per i reati della guerra civile spagnola, cioè diciamo una sentenza pronunciata a distanza di molti decenni e eseguita a distanza di molti decenni. Il testo che abbiamo a disposizione ebbe, questo dai documenti pistolari, l'abbiamo, diciamo, fu autorizzata la pubblicazione da Pasolini stesso e quindi è un testo da ritenersi stabilito e autorizzato. Le varianti, come ho detto, nell'edizione sonora non sono particolarmente significative, se non per alcuni passaggi che ce ne ero brevemente. Soprattutto l'integrazione di un segmento iniziale di presentazione della conferenza, che non è nella pubblicazione a stampa, se non in quella curata appunto da me del 2015, che ricostruisce un po' l'atmosfera del tempo. Le parole introduttive furono pronunciate da Gianluigi Berardi, un altro intellettuale bresciano di grande rilievo recentemente scomparso, che era il moderatore, l'introduttore della conversazione. E si fa riferimento, in queste parole introduttive, al fatto che l'incontro avrebbe dovuto svolgersi la sera precedente, al Salone d'Accemmo, che allora era uno dei pochi, se non l'unico spazio disponibile per iniziative di un certo... di una certa partecipazione di pubblico in città. Le ragioni di sicurezza, una sala eccessivamente sovraffollata, se avete presente come era la situazione del Daccemmo fino a non molto tempo fa, e di ordine pubblico, perché la conferenza fu interrotta da una gazzarra neofascista, una delle molte di cui Basolini fu vittima in quegli anni, perché diciamo era una coazione a ripete, la stessa cosa che era successo al Festival di Venezia, gruppi di provocatori, entrati compitali, cose del genere, che si esprimevano nei confronti di Basolini con termini variamente offensivi. Questa situazione della sera del 12 è necessario spostare appunto la mattina del 13 al Cinema Brixia la manifestazione. Naturalmente è curioso, gli storici si possono divertire a vedere come le testate cittadine diedero diverso spazio, secondo la testata, a questa serata, perché aveva delle implicazioni di altro genere. Cioè Basolini a quell'epoca era ancora percepito decisamente come un intellettuale divisivo, cioè si era con o si era contro. Non era ancora l'icona pop che è diventata, perché un po' tutti poi se ne sono voluti appropriare. Ecco, io quando ho pensato l'interessante del sonoro di quella pubblicazione, non lo dico per farmi, per fare pubblicità al libro naturalmente, al di là dell'elemento di emozione anche un po' feticistica di ascoltare una voce di Pasolini che si riteneva andata perduta a distanza di molti anni. In realtà, però, a me aveva colpito, ha colpito, colpisce quando la riascolto, perché in realtà è la voce del pubblico quella che conta. Cioè, è una conferenza a cui un tipo di rapporto tra conversatore e pubblico del tutto inconsolta. Ecco, nei primi minuti della registrazione, quelli che appunto non erano, non sono raccolti nell'opera omnia, nelle opere omnia, curate da Walter Citi per i medigliani mondadori, Pasolini usa un topos modestie avvertendo il pubblico che non intende fare una conferenza, ma una chiacchierata, un dibattito, una discussione, in quanto dice non ho mai imparato a diventare un oratore. Ecco, questa formula, questa dichiarazione iniziale, non sono mai stato capace di parlare in pubblico, non ho mai dichiarato di essere un oratore, è un elemento ricorrente negli interventi pubblici di Pasolini, tanto che per una singolare un po' tragica anche coincidenza, tragica no, insomma, coincidenza, e là sulle stesse parole che userà il 21 ottobre del 75 nella sua ultima conferenza pubblica al liceo Palmieri di Lecce, disse le stesse cose, io non sono un oratore, e quindi abbiate pazienza. In cui il, diciamo, l'intervento dura circa due ore, quindi, un po' come un film, insomma, che decidete quella serata ascoltate questa cosa e non guardate un film. Quello che salta subito all'orecchio è una naturale inclinazione dialogica di Pasolini con il pubblico non specialista, il pubblico di questa conferenza, un pubblico davvero molto eterogeneo, che si esalta, si affina alle forme dell'interlocuzione. Una cosa che ci capita di riconoscere, anche se con una forma di mediazione diversa, quando, ma molti di noi immagino, capita di incorrere in qualche trasmissione televisiva che replica interventi televisivi di Pasolini. Anche lì Pasolini mostra una capacità di interlocuzione col pubblico particolare. Nel sonoro di una conversazione che non era registrata in forma video, ma solo in forma audio, questa affabilità è più marcata, secondo me. L'argomento della conferenza, appunto del circolo, proposto dal circolo di Mauro, è marxismo e cristianesimo, che è un tema, diciamo, oggi sembra non più di stringente attualità, ma era sentito come estremamente vivo in quel volgere d'anni, e tra l'altro per Pasolini proprio in quel volgere di mesi. Se si pensano di molti dialoghi con Pasolini che compaiono su vie nuove, proprio tra il 64 e il 65, il tema del rapporto tra cultura marxista, tra mondo marxista e mondo cattolico, dico cattolico perché Pasolini nella conferenza usa cattolicesimo e non cristianesimo come nel titolo della conferenza stessa, ritorna frequentemente nelle sue riflessioni. E d'altronde è un argomento che ritornerà anche nella presentazione parigina del Vangelo, appunto, che avvenne in uno scenario straordinario. La prima parigina del Vangelo secondo Matteo avvenne a Notre Dame. Avvenne a Notre Dame testimone Jean Paul Sartre, che è una scena già di per sé interessante. E avviò tra l'altro un po' in un rapporto non facile come sempre quelli di Pasolini con altri intellettuali. Qualcuno di voi ricorderà la poesia in forma di polemica indirizzata a Sartre da Pasolini pubblicata su Die Nuove nel gennaio del 65. Sartre, che tra l'altro proprio pochi giorni prima della nostra conferenza, alla fine di ottobre, ha rifiutato il premio Nobel che gli era stato assegnato. Il 64 c'era un anno molto ricco per Pasolini. In primavera esce la sua quarta raccolta poetica, cioè poesia in forma di rosa. Il 4 settembre viene presentato alla nostra di Venezia il Vangelo secondo Matteo, appunto, che ottiene un premio speciale della Doria e il premio dello SIC, cioè dell'Office Catolique Antrimazionale di Cinema, e suscita un notevole interesse e reazioni piuttosto contrastanti. Non vince il Leone d'Oro, diciamo, le notizie di... e Tegola fino a un certo punto, il Leone d'Oro quell'anno lo vince il Deserto Rosso di Antonioni. Pasolini ci resta malissimo. Però è una cosa di cui non farà più cenno, tanto che parlerà anche bene di Deserto Rosso, avrà un giudizio positivo sul film di Antonioni. ultima cosa, l'importante nella vicenda Pasoliniale del 64 è che il 27 novembre, poco dopo quindi l'incontro che si svolge a Brescia, ma in cui nell'intervento di Brescia ci sono ecchi, tiene a Torino la conferenza nuove questioni linguistiche che inizia appunto che poi verrà riproposta in altre città italiane e poi pubblicata su Rinascita e raccolta in parecchi volumi e darà il via alla nuova questione della lingua di cui un'antologica raccolta curò Orazio Parlangeli qualche anno dopo. Di queste questioni linguistiche, cioè della trasformazione della lingua italiana nell'Italia del neocapitalismo da parte di Pasolini, le riflessioni di Pasolini su questo argomento sono in parte anticipate nella conferenza bresciana. Quello che è più interessante dal punto di vista pasolinistico diciamo sono le osservazioni riguardanti il Vangelo secondo Matteo arricchite anche da riflessioni di carattere comparativo fra tecniche cinematografiche poetico-rappresentative che è un tema poi forte della riflessione pasoluniana riguardanti a Cattone e il Vangelo e sono volte illustrare le ragioni personali artistiche e anche ideologico-culturali della pellicola la quale nelle parole di Pasolini vuole essere quella di un marxista come si definisce di stesso con una visione del mondo epico-religioso. Non mi soffermerò naturalmente sul fatto come ricaverete anche se vi capiterà di leggere questa conferenza che il marxismo di Pasolini è un marxismo molto atipico in realtà le sue competenze sull'argomento non abbastanza provvisorie e comunque sempre prevalentemente per via Gramsciana però anche qui appunto diciamo c'è il tema linguistico cui facevo cenno prima ma soprattutto c'è un aspetto che investe in qualche modo la nostra città mentre naturalmente facendo con parole affettuose e penetranti alla figura di Giovanni Vigesimo Terzo a cui come ricorderete alla cara lieta familiare memoria di Papa Giovanni è dedicato il film di Pasolini lo chiama Pastor Paganus nella poesia disegno per un portale romanico perché vedeva in lui appunto un contadino che diventa Papa quindi due elementi di polarità che lo attraevano sotto diversi aspetti e le parole che qui sono davvero affettuose per certi versi anzi direi quasi completamente tenendo conto anche di altre espressioni che invece erano state molto sedere nei confronti del predecessore di Giovanni XXIII cioè di Papa Pio XII nel dibattito un altro argomento che torna o anzi il filo rosso che accompagna il discorso è il dialogo umano e culturale prima che politico tra le componenti marxistiche e quelle cattoliche più avanzate della società italiana anche qui il 64 un anno chiave citerò un volume che ricordano solo quelli vecchi come me che nessuno è vecchio come me in questa sala è l'anno in cui Mario Gozzini pubblica il dialogo alla prova cattolici e comunisti italiani che fu un volume che allora aveva un notevole successo cioè apriva una discussione davvero rilevante nella vita culturale dell'epoca e tra l'altro appunto anche per quanto riguarda l'aspetto pubblico è un anno è un periodo cruciale cito una piccola cosa che non molti qui credo ricorderanno mi permetto di dubitarlo per lo meno chiedo scusa se invece sbaglio il 20 marzo del 63 Palmiro Togliatti che quando Pasolini fa la conferenza tra l'altro è appena è morto da poco è morto il 21 agosto del 64 ma comunque il 20 marzo del 63 aveva pronunciato a Bergamo a Bergamo cioè la città di Giovanni XXIII un importante discorso che si intitola Il destino dell'uomo poi pubblicato su Rinascita l'11 aprile che è un testo tra l'altro di straordinario interesse cioè è scritto bene perché Palmiro Togliatti è uno che scriveva bene e che anticipa di pochissimo l'enciclica Pace Minterris che Giovanni XXIII pubblicherà di lì a poco quasi che tanto da far sospettare queste naturalmente sono le dietrologie dell'epoca che Togliatti avesse avuto in anticipo perlomeno la bozza della Pace Minterris per costruire il suo discorso tenendo conto di quella attraverso Don Giuseppe De Luca l'ipotesi a mio parere è decisamente poco probabile che un testo di questo genere sia uscito dal Vaticano per finire nella segreteria del Partito Comunista Italiano nel 1963-64 lo ritengo poco probabile non impossibile ma poco probabile un discorso di alto profilo dicevo quello di Togliatti diciamo facendo delle distinzioni però di un'impostazione non troppo diversa da quella di Giovanni XX sintetizzano naturalmente state due figure che hanno polarità opposte da certi punti di vista che è rivolto appunto come la Pace Minterris agli uomini in buona volontà è rivolto invece a tutti cattolici non cattolici per invitare a collaborare contro il pericolo di un incipiente sterminio atorico scusate mi sono dilungato ma in realtà c'è una paradossale attualità anche dell'argomento facciamo i debiti scongiuri naturalmente ma insomma questa la ricerca di un terreno comune è quello su cui in fondo anche Pasolini si sofferma in questo intervento che si svolge a Brescia che è la città del neosuccessore di Giovanni XXIII cioè di Paolo VI che viene qui citato in questa conferenza secondo l'appellativo che è attribuito a Roncalli in relazione a Montini di amabilissimo di eminentissimo Amleto Montini sta portando a termine il concilio Vaticano avviato da Giovanni XXIII e ha già compiuto proprio nei mesi immediatamente precedenti fatti straordinari storicamente Paolo certo nell'estate del 74 va in Palestina il primo papa che va in Palestina a Genusalemme incontra Atenagora cioè il capo della chiesa ortodossa primo incontro dopo 400 anni il 18 settembre riceve in Vaticano Martin Luther King sono cose clamorose oggi forse fanno meno effetto perché ci si vede di più ma davvero si trattava di fatti storicamente molto rilevati tutto ciò è il sottotesto che attraversa la conferenza Pasolini e poi dicevo sto chiedendo davvero c'è la voce del pubblico e qui dico che anch'io che appunto sono il più vecchio in questa sala sono colpito e penso che restate colpito anche voi dalla vivacità della discussione che è sorprendente sono voci che ho lasciato anonime in realtà l'amico Angel mi aveva segnalato che sicuramente riconoscibile la voce di Sandro Fontana tra quelle degli spettatori ma in realtà non adesso al di là di queste che sono ricerche erudite che andrebbero fatte in realtà mi piaceva l'idea che fosse forse la voce di Brescia che parlava che sia di Brescia è in dubbio perché la calata denuncia degli interventi denuncia evidentemente la nascita dei coloro che intervengono ma intervengono voci molto diverse ma tutte estremamente appassionate che toccano di grandi questioni con grande leggerezza leggerezza nel senso senza essere noiosi e pesanti con grande passione con grande partecipazione e non provocano quella reazione che spesso si va beh cerchiamo poi di dimensionare tutto davvero emozionante almeno non si è più abituati a cose di questo genere sono interventi che riferiscono appunto di speranza per un mondo nuovo che a molti pareva possibile pareva possibile in tempi relativamente brevi ma dicono anche di inquietudini di paure di avversione per quelle speranze cioè di altre aspettative anche radicalmente opposte con gli uni e con gli altri passioni in dialogo con grande affabilità senza cercando sempre una mediazione una via di riflessione di confronto con gli altri ma quel coro di voci sul coro di voci bresciano e chiudo per captarsi di benevolenza verso un pubblico bresciano sul coro di voci che interroga la voce lievemente stridula e con un accento bolognese come sapete di Pasolini è un coro se vogliamo un coro della tensione etico-civile della sincera curiosità di una città di provincia perché Brescia era una città di provincia molto più di oggi nel 64 ma una città di provincia non sonnacchiosa non addormentata una città che riassume idealmente in quella voce un pensiero e una considerazione che trova risposta e accoglienza concava nelle risposte di Pasolini e che testimonia quella che è stata una stagione straordinariamente importante per la riflessione per il pensiero e per la tensione etico-civile che ha accompagnato la storia italiana ma anche della nostra città grazie tempi perfetti grazie che posso dire noi che siamo i collaterali di Gerardo di Ugolini quindi io cercherò di trattenere anch'io poco diciamo il nostro pubblico numeroso stasera allora io avrei poca voce anzi ho poca voce per parlare di Pierpaolo Pasolini in realtà la ragione è una ragione che cronologicamente si colloca pochi mesi dopo quello che appunto Fabio Danelona ha così sapientemente nucleato e anche mi viene la notazione che quegli anni proprio il 64 65 66 che precedono quelli che saranno i grandi cambiamenti del 68 vedono la città chiaramente uno scontro ideologico molto forte tra PC e democrazia cristiana teniamo conto che Bruno Boni teneva saldamente in mano la città e anzi nel 64 la quinta riconferma da sindaco quindi voglio dire più di così però il dibattito politico era un'altra cosa cioè non è non è quel guazzabuglio che insomma molto spesso non sempre ma molto spesso sentiamo e c'è il grande tema del rapporto marxismo cattolicesimo questo persino i papi ne tenevano conto insomma questo è e dentro questa grande cornice in effetti l'intervento di cui io parlo parlerò adesso è un intervento che mi porta nell'ambito della storia dell'arte che è il piccolo recinto in cui cerco di muovermi che riguarda però un avvenimento importantissimo per la nostra città dal punto di vista proprio della diciamo della vita culturale della città perché il 1965 è l'anno credo che tutti ricordiamo io è il primo ricordo adesso faccio notazioni personali il primo ricordo che ho io della mia vita di una mostra è quella mostra lì perché una vicina di casa mi portò a vedere in Duomo Vecchio i dipinti di Romanino esposti da Gaetano Panazza e ve lo ricordo è una cosa che mi fa un po' impressione perché sono passati decenni però vuol dire insomma che la mostra era una mostra importantissima di studi di raccolta di studi di capolavori che furono disposti in Duomo Vecchio ci fu anche come dire una parte in Valle Camonica proprio dedicata alla conoscenza del cicli pittorici di Romanino in Valle e il catalogo di quella mostra un catalogo corposo curato da Gaetano Panazza fra l'altro con la collaborazione di quelli che erano loro i conservatori Damiani e il giovane Passamani insomma che quindi appaiono nel lavoro e nella cura del catalogo con un'introduzione di Gianalberto dell'Acqua grande studioso di arte lombarda ovviamente funzionario di strumentendenza lo cito perché è uno dei personaggi che partecipano nel settembre del 65 a questo dibattito tavola rotonda tol come si dice adesso in un luogo eponimo non bello come il cinema brixia che era ridotto del grande quindi un luogo per la città molto significativo e il settembre del 65 diciamo la città celebrava sostanzialmente l'ACBE della mostra appunto aperta da Gaetano Panazza chiamando diciamo a raccolta in una pubblica conversazione in un pubblico confronto dei personaggi non di poco conto addirittura inizialmente erano stati invitati Giovanni Testori che in realtà all'ultimo minuto diede forfait e anche questo sarebbe curioso capire forse la presenza di Pasolini non è detto però insomma non lo so diede forfait e in effetti poi Testori entrò come dire cominciò a occuparsi di romanino a parlare di romanino a scrivere di romanino quasi dieci anni dopo nel 75 c'è lo studio che insieme a Vezzoli pubblica sul ciclo di San Giovanni Evangelista eccetera e poi dovevano erano stati invitati Mario Soldati e Lucchino Visconti quindi dei registi e comunque degli intellettuali che dovevano dare davano un segnale diciamo alla città di un interesse nazionale perché questa era la sostanza ora il diciamo l'incontro che è l'argomento diciamo di questa veloce notazione avviene appunto nel 65 viene registrato e io per esempio posseggo una sbobbinatura come molti altri che è stata pubblicata proprio dalla fondazione Calzari Trebeschi in occasione il ricordo della morte di Pasolini Pasolini muore nel 2 novembre del 75 la Calzari Trebeschi era nata pochi mesi prima dopo la strage di Piazza della Loggia e uno dei primi atti è diciamo questa pubblicazione una sorta di dattilo scritto di questa voce Pasoliniana a Brescia in confronto con altre voci le altre voci che parteciparono a questo dibattito furono Renato Guttuso con cui in realtà Pasolini non era tanto tenero perché l'anno prima aveva fatto delle polemiche spaventose sulla mostra che in realtà il partito gli aveva sostenuto ampiamente e poi Guido Piovene Franco Russoli che era la voce istituzionale era diciamo il grande direttore di Brera quello che ebbe il primo grande sogno di una grande Brera che ancora stiamo aspettando se pensate quanti anni sono passati e poi il resto Banducci quindi diciamo che il confronto era un confronto tra intellettuali di alto altissimo livello e il tema era proprio la figura di Romanino ora in realtà io avevo questo testo come ripeto tanti ma recentemente un giovane studioso Tommaso Mozzati ha trovato negli archivi nell'archivio della fondazione Brescia Musei gli ex archivi dei musei civici una trascrizione una sbobbinatura però con le correzioni di Pasolini e quindi diciamo con l'intendimento di poi pubblicare questo testo che poi non avvenne mai in realtà c'è questo tipo di pubblicazione come dice l'autore in un articolo che appunto ha pubblicato nel 2021 Boni sosteneva l'importanza di pubblicare diciamo questi interventi perché questa pubblicazione non avvenne mai quindi era interessante diciamo questa ulteriore arricchimento di notazioni di correzioni di bozze diciamo che Pasolini fa di questo testo ora qual è il come dire l'ossatura del ragionamento di Pasolini beh è un'ossatura che in qualche modo si lega al discorso che stavi facendo tu cioè lui dice all'inizio del suo intervento non dice che non è bravo a fare l'oratore ma usa un escamotage un esempio che dice appunto fa riferimento al fatto che a Parigi era stata trovata una donna legata mani e piedi e trafitta da una katana giapponese nel petto quindi un delitto efferato terribile da citare e perché lo cita perché dice che i poliziotti parigini non sapendo come muoversi in un'indagine così complessa che non dava immediatamente ragione diciamo di questo omicidio avevano chiamato Jossi Menon il romanziere appunto l'inventore di McGray per fare per aiutare diciamo i poliziotti ad avviare questa indagine e allora lui Pasolini appunto dice io fingo diciamo di partire da un fatto delittuoso il fatto delittuoso è romanino perché lo è perché è delittuoso perché ritengo che da quello che ho visto lui dice di aver visto la mostra di essere andato poi in Valle Camonica di aver visto i dipinti ovviamente il ciclo di Pisogna scusate il ciclo di Beno e di essersi in qualche modo posto alla questione che romanino in sostanza mostra un'incoerenza stilistica la dice proprio come tra virgolette o meglio ancora dice disuguaglianza di rendimento perché sente o individua diciamo un'assenza di identità ma lo fa naturalmente per giocare la carta di trovare quella individualità e quella identità e si pone la domanda dov'è e qual è il vero romanino mettendo in contrapposizione in sostanza quello che gli studi di allora e con un retaggio che adesso dirò romanino porta con sé cioè qual è il vero romanino il romanino dei dipinti di Pisogna dei grandi cicli legati appunto alla passione di Cristo con quelle caratterizzazioni così anticlassiche così ricercatamente diverse dalla linea di un classicismo che in qualche modo in città trionfava attraverso il pennello di Moretto per fare un esempio più facile o era o era l'altro romanino quello che va a dipingere nel castello nella residenza del principe vescovo di Trento dove con grande eleganza insieme all'amico Aspertini dipinge una loggia con temi legati all'antichità e al piacere della vita intellettuale con delle chiare citazioni di esempi classici e romani qual è il vero romanino come fa a stare insieme diciamo una modalità così diversa e proprio citando quello che la storia dell'arte in qualche modo ha insegnato a lui insegnava a lui vi ricordo e questo è un dato fondamentale che Pasolini aveva studiato a Bologna e il suo insegnante era Roberto Longhi e quindi è chiaro che la traccia la falsariga su cui si muove Pasolini che non era propriamente uno storico dell'arte ma lui stesso lo dice più volte nei passaggi dice io l'osservo con gli occhi di un osservatore curioso ma gli strumenti diciamo della critica sono quelli che lui aveva recepito innanzitutto da Roberto Longhi e individua naturalmente sulla scorta del suo maestro del suo docente di riferimento quella linea del realismo lombardo che comunque continua ancora a essere una linea diciamo di di organizzazione diciamo del discorso romaniniano nella storia dell'arte anche se ovviamente molte cose sono cambiate per fortuna la critica oggi legge le cose in un modo diverso tuttavia quello satura in qualche modo resta e dice quindi nel suo ragionamento davanti al pubblico e davanti ai suoi interlocutori perché poi ci fu una discussione che alla fine è riportata con alcune osservazioni romanino prima domanda se non era un piccolo maestro un petit metre come si dice strettamente unitario cioè se non aveva uno stile unitario possiamo definirlo un eclettico cioè uno che sapeva muoversi su linguaggi diversi li mescolava e Pasolini dice afferma no non è un eclettico perché l'eclettismo è qualcosa di altro cioè è un appropriamento sincretistico di modi diversi però hanno un preciso luogo un preciso spazio gli eclettismi in realtà questa diversità di linguaggio di romanino è qualcosa che pare in ritardo e nello stesso tempo pare in anticipo è una lettura affascinante se ci pensiamo cioè romanino viene letto da Pasolini come un erede diciamo di qualcosa che è trascorso che non esiste più qualcosa in senso culturale di una società che non c'è più e nello stesso tempo qualcuno che prevede una trasformazione della società certo in questo meccanismo e in quegli anni a romanino vengono attribuiti delle posizioni ideologiche chiaramente quindi non è una lettura critica storicamente documentata o come dire filologicamente costruita ma sono delle osservazioni però affascinanti perché a questo punto nel suo discorso nella sua presentazione Pasolini tira fuori la questione di un riferimento al gotico che potrebbe parerci assolutamente insensata e per certi vesti lo è ma gotico Pasolini lo utilizza e lo spiega più avanti nel discorso come un riferimento diciamo ad un mondo di valori che lui riconosce lui Pasolini che lui riconosce nella situazione socio-culturale in cui luteranesimo si diffonde questo è il problema cioè che in qualche modo romanino capti elementi valoriali di una società altra che non è la società del cinquecento italiano anzi segnatamente veneto lombardo visto che noi siamo terra veneta in quel momento e lui era cittadino della repubblica serenissima e che quindi in qualche modo è una discrasia rispetto a quello che si vive qui e questo è un po' il leitmotiv del suo discorso tanto è vero che dice seconda domanda come se fosse Simenon che indaga sulla signora uccisa dal giapponese o presupponiamo visto che era una katana l'avrà usato un giapponese ma non è detto non si è mai saputo poi chi avesse ucciso la signora ma detto questo la seconda domanda che era ovviamente una domanda retorica rivolta al pubblico era un grande professionista romanino c'era uno che sapeva davvero gestire i lessici della pittura gli schemi della pittura intesa come la pittura classica il codice diciamo accettato dal piedoridascimento e Pasolini dice no non era un grande professionista non nel senso che si attribuisce a quel a quel termine in quella situazione e fa riferimento e usa spesso il termine goffo dipinge delle mani goffe rende sgradevoli i volti addirittura alcune opere sono brutte a vedersi e quindi chiude su questo ragionamento dicendo ma allora era un pittore facile cioè un pittore diciamo non dico incolto ma comunque che si muoveva su un terreno vernacolare o di facile approccio neanche questo perché in molti quadri è un pittore molto elegante aggraziato e capace di come dire di costruire immagini di costruire eleganti formule linguistiche dal punto di vista appunto della pittura cita alcune opere e allora come la mettiamo perché a questo punto è chiaro che lui deve trarre delle conseguenze dice io mi sono posto queste tre domande ingenue e ho risposto genericamente proprio perché voglio che questo tipo di approccio e sta parlando al pubblico permetta una discussione da punti di vista diversi di quelli che sono al tavolo con lui e appunto citando le la cantoria di asola del 1525 la citta con le date riportate appunto nel catalogo dice io quello che riconosco in quel dipinto che dove Romanino ha dipinto molto con tegni che stile diversi dice un intenso rigore una severità di contadino religioso questo è uno dei perni del ragionamento di Pasolini cioè il fatto che la pittura di Romanino sia una come dire una una forma con il quale il sentimento religioso di Romanino emerga visivamente e visibilmente mettendo in contrapposizione la religiosità di Romanino e quindi la religiosità contadina intesa come profondo sentimento di appartenenza una comunità una visione del mondo con la controriforma o la riforma cattolica del concilio di Trento quindi contrappone Romanino volutamente a quello che di lì a poco il concilio di Trento avrebbe sancito come chiesa cattolica non siamo ancora in quella fase ma ci stiamo arrivando e dice a questo riguardo lui cita la pala di San Felice del Benaco con La Beata Vergine del Bambino eccetera eccetera degli anni quaranta e dice insomma che è una pala veramente brutta di quella bruttezza che hanno le opere inespressive ipocrite una bruttezza anzitutto morale e io sono impressionato da questo fatto e sono venuto a sapere dice Pasolini quindi come dire si è informato qualcuno l'ha raccontata in quegli anni in cui questa tela è stata dipinta si è avuto a Brescia un periodo di intolleranza religiosa di repressione moralistica e ideologica di reazione qualcosa insomma che sarebbe divenuto un dato culturale civile costante con la controriforma quindi è chiaro che la lettura di Pasolini è una lettura ideologica della storia e quindi riconosce nella controriforma un irrigidimento e anche una forma di persecuzione violenta di invece una religiosità che lui vede come spontanea appunto nel popolo nei contadini e nei borghesi perché in realtà quando arriva a parlare diciamo dei cicli romanignani della balcamonica adesso salto perché non la voglio fare troppo lunga affronta quel tema quel tema diciamo del pubblico che a cui si rivolgevano questo tipo di immagini cita anche questo di viene dal suo maestro perché lo cita proprio apertamente la questione della diffusione delle immagini del nord Europa cioè le immagini influenzate dalla riforma protestante quindi dal dal verbo luterano e lui dice lo sappiamo anche lunghi ricorda quanto nei primi decenni del cinquecento le famose stampe tedesche importante abbondantemente importate abbondantemente in valle padana abbiano influenzato l'arte quelle stampe quei modelli come dice il longhi scendevano dal reno attraverso le valli alpine includevano portavano con sé e in sé evidentemente una diversa ideologia un diverso modo di vedere la vita una diversa cultura e dicendo questo ecco che ritorna fuori il gotico e quindi aggancia romanino all'idea che romanino sia la la evidenziazione la personificazione di un individuo di un artista di un diciamo anche di un intellettuale anche se non usa questo termine collegato più alla come dire alle terre intorno al reno e al danubio che non alle terre italiane proprio perché ne riconosce un orientamento che a quei valori si riferisce e a fa questa affermazione possiamo dire insomma che in questo modo noi siamo davanti a un incosciente protestantesimo di romanino che invece era severamente cattolico che nasce anche la sua simpatia quindi per romanino per certi personaggi costanti dalla fisionomia psicologicamente e sociologicamente popolare e con essi si identifica quindi afferma la benda classicistica e classicista sembra caduta dagli occhi di romanino che si sono fissati senza quasi accorgersene in una visione realistica e simpatetica del mondo popolare che lo circondava quindi quasi come un profeta vede romanino come colui uno dei pochi che si è tolto le bende dagli occhi di un cattolicesimo in qualche modo vissuto secondo tradizione e colpito influenzato da una visione del mondo completamente diversa in quella riconosce una strada certo che è una sovrapposizione naturalmente tant'è vero che poi sostiene proseguendo nel suo ragionamento che lo spirito diciamo protestante lo spirito che viene dal nord si identificava non solo con il popolo ma soprattutto con la borghesia con la classe lavoratrice usa questo termine che oggi non useremmo più naturalmente e dice e cita uno degli convenuti alla tavola rotonda dice Piovene quindi ha parlato prima e parlando delle profetesse di Asola dice che gli ricordano certe streghe realistiche io ricorderei piuttosto le figure della cantoria quella di Asola che diceva prima che mi ricordano le filandiere della filanda quelle dove andrà a lavorare tra un po' Enzo Tramaglino quindi cita i promessi sposi proprio per dire in realtà racconta il popolo che lavora e il popolo che lavora è diciamo quella borghesia che nel lavoro si costruisce quindi non è una visione come dire del del derelitto e del povero citerà a un certo punto anche Ceruti dicendo che Romanino non è Ceruti naturalmente e poi in conclusione verso la conclusione mette a confronto due termini che il suo maestro cioè Longhi e un suo diciamo coetaneo Giuliano Briganti un po' più vecchio proprio in quell'anno aveva affrontato come questione è la maniera italiana che era uscita nel 61 editori riuniti peraltro presentazione di Roberto Longhi testo saggio di del giovane Giuliano Briganti la contrapposizione tra classicismo e manierismo dove proprio basandosi su quel libro che era nella biblioteca di Pasolini e che Pasolini poi utilizzerà anche per altri testi a dire la verità la questione è questa il classicismo è diciamo l'organizzazione dei linguaggi irrigidita che la chiesa cattolica fa propri e il manierismo in realtà è una reinterpretazione una discussione interna però quel mondo lì che lascia fuori tutto il resto della realtà e del mondo appunto del lavoro e di questa borghesia iniziale insomma che nelle terre lombarde evidentemente lui riconosceva in maniera terre venete e lombarde e dice in realtà alla fine Romanino era un severo provinciale credente questa è l'immagine che dà il pittore quindi moralmente severo con se stesso e con quello che rappresentava un provinciale certamente perché apparteneva appunto a queste realtà come dire di confine e a quelle e per quelle interpretava diciamo i temi religiosi ma un credente e il suo quando dovesse esserci il romanino il suo è un manierismo un po' paesano dove non c'è il termine della protesta e delle trasformazioni in una chiave aulica cita fra l'altro un'opera di romanino opera che oggi si trova a Memphis descrivendo questo dettaglio dice la testa della vergine anzi dice Santa Caterina dello sposalizio mistico di Santa Caterina Sant'Orso eccetera che oggi si trova a Memphis con una benda bianca un cui lembo cade parallelo al naso in un marmoreo ed estenuato capriccio di simmetria che non può non far venire in mente il pontorno insomma spessi brandelli di manierismo alleggiano sui quadri del romanino e vi si fissano in ambigui frammenti subito riassorbiti dalla severità dell'insieme e spesso dei macchinari classicisti danno forma alle sue composizioni rotte però internamente dal romanino italiano cioè dal romanino popolare dal romanino borghese dal romanino proto-protestante chiudo davvero adesso perché continuo a dirlo ma non lo faccio perché sarebbero ancora tante altre cose da dire per esempio nella conclusione del suo discorso Pasolini parla della caricatura cioè questi volti così grotteschi che romanino utilizza a piene mani soprattutto nei cicli pittorici della valle camonica dove appunto Pasolini identifica questa necessità di parlare per un popolo di un popolo ad un popolo secondo modalità riconoscibili e dice la caricatura mi ricorda Domier fa subito un riferimento alla cultura ottocentesca che vuol dire però che questa caricatura questo modo di essere caricatura non è vignettistica o di un pittore caricaturale del rinascimento fa anche degli esempi come il ciberchio e altri è in realtà un modo tipicamente moderno e borghese della pittura lui tende continuamente a inserire questo elemento appunto di identificazione alla fine chiude diciamo il suo intervento dicendo che insomma in qualche modo a Romanino parlando soprattutto del famoso San Matteo della cappella di San Giovanni evangelista ma lì Longhi aveva già scritto che Caravaggio ha cominciato lì ha visto lì il giochi dei lumi la drammaticità del reale il santo che è un essere umano e non ha nulla di sacrale ma che in qualche modo fa i conti con la realtà lui dice appunto il nostro autore anche il Caravaggio penso appunto a San Matteo sia quello cattivo che quello addirittura dice ricorda la pittura borghese dell'Ottocento ciò che il romanino ha soprattutto prefigurato ma meglio sarebbe dire non trattandosi di un fatto figurale ha previsto è stata l'Italia che non si sarebbe avuta una cultura italiana soltanto potenziale e mai realizzata in altre parole egli ha previsto e vissuto una cultura italiana quale sarebbe stata se la borghesia delle città italiane avesse accettato la rivoluzione protestante che è un tema anche un po' gramsciano questa roba qua quella che dicevi tu insomma il suo marxismo è filtrato nel nasce se avesse accettato la rivoluzione protestante sarebbe stato un paese diverso e insomma se non ci fosse stato il concilio di Trento che è l'obiettivo dei suoi strani e qui chiudeva il suo discorso poi nella trascrizione c'è una parte del dibattito e lui interviene dicendo che non è d'accordo con quello che dice Guttuso Guttuso dice Romanino è un uomo del rinascimento e lui dice no il rinascimento è un'altra cosa Romanino non c'entra con il rinascimento l'Italia ha eluso tutti i problemi della storia moderna e naturalmente diciamo il resto dei paesi europei si è evoluto altrove nel corso della lenta rivoluzione borghese europea e quindi uomo del rinascimento ma forse del rinascimento europeo cioè prende Romanino lo toglie dalla realtà locale lo colloca nell'empiro dei pittori europei non italiane e l'altro è Russoli con cui diciamo non polemizza ma insomma dice egli non è un pittore provinciale è un pittore appunto europeo i barbari erano discesi in lui attraverso la valle Camonica il testo è un testo che sarà pubblicato appunto da Tommaso Mozzati con una attenzione una resa filologica diciamo delle correzioni quindi come dire io non ho altro merito che non citare un giovane autore che questo testo l'ha studiato e lo sta pubblicando però mi sembrava che fosse interessante per ricordare Pasolini e proprio in colloquio con te su questa sua presenza bresciana così vicina ravvicinata al 64-65 ecco questo è quanto grazie va bene ringrazio io Valerio Terraroli per la sua brillante lezione che peraltro appunto ricostruisce una vicenda che ha degli elementi di parallelo con quello che è capitato di dire anche a me cioè sono due interventi vicini cronologicamente e anche idealmente collegati le forze dell'ordine poi si occuperanno di cercare una catana a casa del professor Terraroli ma adesso diamo la parola al professor Gerardo Golini che ci parlerà di Pasolini all'antico mito tragedia cinema bene grazie a tutti buonasera dopo Pasolini a Brescia passiamo a Pasolini a Tebe a Corinto nella Colchide altri paesaggi altre civiltà sono molto anche emozionato a prendere la parola dopo i due illustri oratori che mi hanno preseduto che sono anche due oltre due soci dell'Ateneo due colleghi a Verona e due cari amici in tanto tempo parlare di questo tema Pasolini all'antico in una trattazione di 40 minuti circa per quanto possa essere abbozzata nelle sue linee essenziali è un'impresa piuttosto azzardata la complessità e la vastità dell'argomento sono enormi come testimoniano anche i numerosi studi usciti negli ultimi tempi soprattutto in occasione della centenario della scomparsa della nasta di Pasolini dedicati appunto a Pasolini al mito greco Pasolini all'antico Pasolini produzione artistica di Pasolini in un continuum che comincia negli anni giovanili e va avanti fino alla fine direi proprio fino all'ultima opera inedita il romanzo Petrolio dove pure si trovano riferimenti espliciti episodi della letteratura antica e in particolare penso a un nucleo narrativo che era relativo a un viaggio in Oriente che il protagonista di Petrolio Carlo doveva compiere e che era modulato sulla falsa riga delle ergonautiche di Apollonio Rodio quindi quello di Pasolini con la cultura classica è un rapporto intenso complesso non da professionista nel senso che Pasolini non è mai stato non è stato un docenno non era un professore di greco di latino come sapete però era una persona con solide basi in queste lingue in queste culture come potevano essere le basi di un ragazzo di quella generazione che aveva fatto ottime scuole ricordo che aveva frequentato un anno di ginnagio al classico Manin di Cremona poi un secondo anno di ginnagio a Reggio Emilia al liceo Spallanzani e tutto il triennio liceale al Galvani di Bologna dove tra l'altro aveva avuto anche alcuni docenti molto diventati poi molto famosi come Carlo Gallavotti divenuto poi professore universitario ed editore della poetica di Aristotele tra le tante cose ma anche all'università di Bologna pur avendo studiato come abbiamo sentito anche poco fa storia dell'arte con illustri maestri sappiamo che aveva seguito dei corsi di letteratura greca quelli per esempio tenuti da Goffredo Coppola in particolare attestato un suo una soffrequentazione di un corso su Euripide però detto questo è vero che non andava al di là di una conoscenza delle lingue classiche della cultura classica piuttosto dilettantesca ecco magari sopperiva con una sua capacità di approfondire in modo autonomo ecco l'attitudine che aveva di recepire e rilaborare in forma originale le tematiche che incontrava che gli venivano incontro da questo mondo della cultura antica e di sicuro la cultura classica fa da sfondo costituisce un punto di riferimento per tutte le sue per tutte le arti in cui Pasolini si è cimentato pensiamo per esempio a Pasolini traduttore Pasolini ha tradotto l'antigone di Soffoca almeno i primi 300 versi ha tradotto alcuni frammenti di Saffo in dialetto friulano ha tradotto il primo libro dell'Eneide di Virgilio ha tradotto interamente una commedia di Plauto il Miles Gloriosus tradotta con in dialetto romanesco la tradotta col titolo Il Vantone ha tradotto l'Orestea di Eschilo l'intera trilogia di Eschilo per una messa in scena a Siracusa nel 1960 regia di Lucignani e Gasman Vittorio Gasman ha girato tre film cosiddetti mitologici negli anni 60 Ediporè Medea e Appunti per una Orestiade africana tutti ispirati in maniera più o meno diretta a miti antichi greci ma pensiamo anche alla sua attività di drammaturgo ha scritto una tragedia un dramma affabulazione che può essere letta come una parodia dall'edipore di Sofocle e addirittura Sofocle è a un certo punto personaggio l'ombra di Sofocle è un personaggio di questo dramma ha scritto anche un dramma giovanile che è spuntato dalle carte pasoliniane da non molti anni che si intitola Edipo all'alba una specie di rifascimento dell'edipo colono Sofocle potrei anche citare tante altre cose anche diciamo dove il riferimento ai modelli antichi è molto più allusivo il film Teorema per esempio del 68 è un film che non fa riferimento esplicito a nessun dramma antico ma tra le righe o meglio tra le immagini dietro le immagini si può ben individuare il riferimento al dionisismo alle baccanti di Oripide a Dioniso che in quegli anni veniva anni 60 veniva recepito come il dio della liberazione sessuale il dio dell'alterazione della coscienza del divenire se stessi al di là dei condizionamenti sociali e familiari c'è da chiedersi perché mai un artista come Pasolini un intellettuale conosciuto per il suo anticonformismo per la sua acutezza per la sua vispolemica per le sue analisi così così divisive come stavamo detto della realtà contemporanea diventato nel tempo volente o nolente più nolente che volente direi una sorta di coscienza critica della società italiana contemporanea perché ha dedicato tanta attenzione alla cultura classica la risposta a questa domanda sta nella semplice costruzione che il Pasolini politico il Pasolini con Rossaro quello degli articoli sul Corriere della Sera e su altre riviste giornali che analizza e commenta l'attualità le vicende dell'attualità e prende posizioni alle volte molto polemiche alle volte anche paradossali e il suo interesse per la civiltà classica dall'altra non sono affatto in contraddizione ma anzi c'è un legame molto stretto e molto profondo tra le due dimensioni molto più di quanto non si possa immaginare perché Pasolini nel mito antico non ha mai cercato una fuga dalla realtà al contrario nel mito ha individuato una specie di specchio allegorico attraverso il quale osservare e illustrare le contraddizioni della vita a lui contemporanea l'atteggiamento di Pasolini verso l'antico non è mai un atteggiamento antiquario o filologico ma si tratta di trovare nelle storie nei personaggi delle antiche leggende dei paradigmi delle chiavi di lettura per comprendere meglio il presente e chi assiste oggi a cento anni dalla nascita e a quasi cinquant'anni dalla morte alla visione dei suoi film mitologici per esempio rimane colpito dalla capacità che Pasolini ha di rilaborare e attualizzare gli intrecci di quelle antiche vicende di tragedie greche o dei miti greci mettendoli in scena con riferimento a problematiche legate all'attualità del suo tempo e anche del nostro tempo c'è una frase che mi sono qui appuntato solo chi è mitico è realistico e solo chi è realistico è mitico una frase che recita il centauro nel film Medea il centauro che ha il compito come sapete di allevare il giovanissimo Giasone ancora bambino questa massima questa frase credo che sia un buon punto di partenza perché sintetizza bene il concetto cardine attorno a cui si condensa il lavoro di Pasolini sul mito antico tra antichità del mito in realtà contemporanea non c'è antitesi non c'è differenza ma una perfetta coincidenza e vorrei citare anche un altro testo che può essere una buona appunto di partenza sono dei versi giovanili pubblicati scritti nei primissimi anni 60 62 credo e pubblicati nel 64 in una raccolta poetica la sua prima raccolta poetica poesia in forma di rosa dove parla appunto dell'antico e sono versi diventati anche famosi perché Pasolini vi fa recitare a Olson Welles nel film La ricotta e dice io sono la forza del passato sono la tradizione e il mio amore vengo dai ruderi dalle chiese dalle palle d'altare dai borghi abbandonati sugli appennini le prealpi dove sono vissuti i fratelli giro per la tuscolana come un passo per l'appia come un cane senza padrone o guardo i crepuscoli le mattine su Roma sulla Sussaria sul mondo come i primi atti della dopostoria cui io assisto per privilegio di anagrafe dall'oro dell'estremo di qualche età sepolta mostruosa è chi è nato dalle viscere di una donna morta e io feto adulto mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più non intendo fare qui le gegesi verso per verso o termine per termine sarebbe una cosa troppo lunga e complicata ma il poeta qui esprime secondo me in modo molto efficace proprio il sentimento che lui prova davanti a uno spettacolo concreto che sono le rovine dell'antica Roma dell'antica signità classica non solo Roma anche altre ne cita che destano in lui un sentimento misto di ammirazione ma anche estraneità si sente il discendente di quella tradizione si autorappresenta come il figlio un figlio mostruoso di una madre che ormai è morta ma al tempo stesso percepisce che proprio in quanto figlio di quel passato egli è un moderno addirittura il più moderno dei moderni ecco questo per dire quanto l'antico sia moderno così come il mito sia realtà questi versi mi pare che possono essere un buon punto di partenza appunto per analizzare il rapporto di Pasolini con l'antico e siccome come dicevo prima non sarebbe sensato né fare una rassegna cronologica di tutti i testi di Pasolini in cui tratta temi del passato ma per diciamo una scelta che mi pare sensata ho deciso di privilegiare una chiave di lettura partendo da un concetto da una parola che nel lessico pasoliniano è spesso volentieri ripetuta e che ha una notevole importanza la parola è barbarie la Grecia di Pasolini è una Grecia barbarica il che è un ossimoro se vogliamo perché i greci si definivano greci o meglio i greci definivano i barbari in quanto non greci parlare di una Grecia barbarica è di per sé qualcosa di antitetico ma l'immagine che Pasolini elabora nei film soprattutto ma non solo della Grecia antica è proprio in questo senso il punto di partenza è un rifiuto netto di ogni idealizzazione di stampo neoclassicistico la Grecia non è affatto la terra della serenità dell'equilibrio della misura è la terra di grandi emozioni di grandi pulsioni istintive naturalmente non è che se la inventa tutta da niente questa visione della Grecia barbarica Pasolini è in linea su una diciamo si trova collocato su una linea interpretativa degli studi classici che parte almeno da Nice e che dal novecento era proseguita con importanti risultati grazie anche al contributo dell'antropologia storica della psicoanalisi mettendo in luce gli aspetti più oscuri più primitivi più legati all'istinto appunto della civiltà greca antica e sicuramente Pasolini attingeva da pubblicazioni che a quel tempo erano molto importanti penso soprattutto ai libri usciti nella cosiddetta collana viola dell'editore Einaudi negli anni 50 studi come quelli di De Martino il mondo magico l'anima primitiva di Davy Brühl le opere di Jung e Chereni il ramo d'oro di Fraser miti e misteri sempre di Chereni il trattato di storia delle religioni di Mircea Liad tutti i libri che Pasolini aveva letto aveva comperato che sono conservati quasi tutti nella sua biblioteca personale e su cui ci sono anche annotazioni a margine e note di lettura che sarebbero tutte da studiare e approfondire perché questi libri hanno sicuramente determinato molto più di quanto aveva recepito dall'insegnamento scolastico universitario la sua elaborazione di una Grecia barbara ma cosa intende per barbara o per barbarie c'è anche qui tra le tante citazioni che si potrebbero fare ne ho presa una che si trova nel libro Il sogno del centauro libro intervista in cui dice la parola barbarie lo confesso è la parola che amo di più semplicemente nella logica della mia etica perché la barbarie è lo stato che precede la civiltà la nostra civiltà quella del buon senso della previdenza del senso del futuro capisco che ciò possa sembrare tradizionale irrazionale e perfino decadente è semplicemente l'espressione di un rifiuto dell'angoscia davanti all'autentica decadenza generata dal binomio ragione-pragma divinità bifronte della broghesia in questa prospettiva barbarica manca una precisa morale questo adesso lo dico io in aggiunta alla citazione è la terra dove è possibile la trasgressione continua evidentemente c'è qui dietro anche un sostrato romantico decadente usa questo termine lui stesso che del resto è una componente imprescindibile del pensiero pasoliniano in tutto il suo complesso può essersi anche una memoria diciamo così del dionisiaco di origine nissana questa è la mia ipotesi che aveva suggestionato il giovane Pasolini ma in che cosa si concretizza nella fattispecie questo concetto di barbarie applicato della civiltà greca antica beh se guardiamo nei film mitologici nei tre film appunto che ho citato già prima la prima cosa che viene in mente sono i paesaggi gli ambienti esterni la Grecia che Pasolini ricostruisce nei suoi film non ha colonne d'oriche non ha templi sullo sfondo non ha tutto quello che nell'immaginario comune riconduciamo a una ambientazione appunto di tipo greco arcaico classico ma è una ambientazione che punta sulla natura primitiva che suggerisce un'atmosfera astorica atemporale questo anche perché così le vicende che mette in scena nel film nei film assumono un valore simbolico di verità archetipica prendiamo il film idea questa è la locandina del film del 69 per rappresentare la coltide di Medea che già nella tragedia ripidea già nell'antichità era qualcosa di orientale Pasolini sceglie il paesaggio della Cappadocia in Turchia e gira tutta la parte iniziale del film è girato appunto in questa ambientazione che è fatta come vedete anche qui di dune di rupi desertiche città rupestri ho raccolto alcuni fotogrammi non è nitidissima l'immagine li ho proprio fotografati dal film della pellicola è un paesaggio che si può definire barbarico per eccellenza è della patria della maga della maga Circe è un paesaggio anche lunare viene definito a un certo punto c'è una interessante nota di Pasolini stesso in un'opera che si chiama Visioni di Medea che poi è la sceneggiatura del film anche se è una sceneggiatura molto diversa da come poi è stato veramente recitato e sceneggiato il film tuttavia a un certo punto per la scena 12 Pasolini ha nota nella colchide lunare così diversa dalla terra di Jasone che è piatta malinconica e realistica tra i folti calanchi le gruppi mostruose le terrazze labirintiche si celebra un rito che serba intatta la sua fede nell'ontologia e nella sacralità di ciò che è il mondo come ierofania queste parole questa noticina appunto che è pubblicata nelle sceneggiature dei film di Pasolini ormai tutte disponibili nel volume dei meridiani citato anche prima a cura di Valter City sono due volumi dedicati a per il cinema che contengono appunto sceneggiature scritti vari sui film di Pasolini si trova questa nota tra tante altre e è una nota interessante perché sono parole che riprendono letteralmente una pagina del trattato di religione della religione di Mircea Eliad il grande studioso rumeno che si è dedicato appunto alla religione antica e sarebbe tutto da studiare quanto Pasolini dipenda da queste fonti appunto di studi antropologici o di religione antica perché mi sembra di poter dire che in più più punti delle sceneggiature ci sono citazioni esplicite o comunque allusioni evidenti tra l'altro oltre all'ambiente al paesaggio anche la musica ha una funzione simile sono musiche sacre giapponesi antiche canti d'amore iraniani tibetani giapponesi comunque niente di greco e anche questo crea un effetto quantomeno straniante poi naturalmente la barbarie nel film è collegata con la protagonista Medea personaggio barbaro già già nel modello ripideo come sappiamo per eccellenza Pasolini sceglie Maria Callas soprattutto perché vedeva in lui lo dice lui stesso in una pagina vedeva in lei una donna che proveniva in origine da un mondo agricolo primitivo ma che poi era stata educata alla civiltà borghese e Medea Callas nel film è rappresentata in una dimensione barbarica da maga come sappiamo che deve essere ma Pasolini dilata molto questo aspetto ce la mostra in tutta la lunghe sequenze nel prologo del film all'opera in rituali di sacrificio sacrificio legato alla fecondità sacrifici barbari che nessun greco aveva potuto accettare sacrifici che si fondano su sacrifici umani nel senso che nella parte appunto iniziale del film il pubblico assiste al sacrificio di un povero ragazzo che dopo essere stato drogato viene letteralmente scannato da un sacerdote e fatto a pezzi di danniato e le sue carni il suo sangue viene dato in pasto ai fedeli questa è una scena del film in cui vediamo appunto Medea mentre assiste e ufficia al sacrificio anche in questo caso abbiamo una noticina sempre tratta da visione di Medea dove dice Medea rito lunare la luna è legata alle corne alle vacchie alla fecondità è legata al serpente è legata alla spirale è legata soprattutto alle acque nell'insieme questo complesso solidare rappresenta anch'esso una unità della fecondazione della morte Medea sa tutto questo è ufficia ispirata e quasi fanatica il rito ora Pasolini si è basato per mettere in scena questo rito arcaico così violento così brutale senz'altro anche in questo caso la pagina di Eliad da Fraser ma soprattutto sappiamo che aveva avuto materiale documentario dal professor Brelic Angelo Brelic che era professore all'Università di Roma succeduto a Pettazioni in quella che è la famosa scuola romana di storia delle religioni e che aveva lavorato come consulente per questo film lo sappiamo perché abbiamo una lettera conservata tra le carte di Pasolini una lettera di Brelic a Pasolini in cui Brelic lo prega di non nominarlo assolutamente nei titoli di coda nei credits come consulente perché temeva che questo potesse danneggiare la sua reputazione Pasolini era divisivo come sappiamo anche La Medea fu un film molto contestato e poco apprezzato quando uscì dalla maggior parte dei critici in questo rituale ci sarebbe da vedere tutto perché è molto interessante Pasolini mette dentro tutte le letture che aveva fatto per esempio sul farmacos il rito del farmacos cioè il rito attestato nel mondo arcaico in alcune civiltà del mondo arcaico per cui una comunità a un certo punto decideva di individuare una persona ritenuta colpevole responsabile dei mali di tutti e quella persona veniva sacrificata per liberare la città dalla contaminazione così come il rituale di dilagnamento del corpo della vittima e il mangiarne le carni crude quindi un rituale di antropofasia rimanda sicuramente ai rituali di Dioniso allo Sparagmos che nella tradizione antica di Dionisia che è proprio quel rituale per cui i fedeli invasati danno la caccia e uccidono animali o anche una persona vedi il povero penteo nelle baccanti di Oripide e lo sbranano facendola a pezzi e mangiandola le carni tutto questo naturalmente nelle tragedie greche classiche se c'è è sempre l'uso è sempre raccontato da un messaggero che arriva sulla scena che ha visto Pasolini invece lo mette in scena in modo assolutamente icastico e brutale dopodichè il cuore ideologico di questo film sta in un contrasto perché da una parte si è Medea con il suo mondo magico primitivo sacrale e dall'altra parte c'è Jasone l'eroe greco che invece esprime un mondo laico razionale tecnologico tra l'altro l'attore che interpreta Jasone non è un attore vero ma è un atleta olimpionico Giuseppe Gentile che aveva vinto la medaglia d'oro l'anno prima all'Olimpide del Messico nel salto triplo se non sbaglio lo sceglie perché in quanto atleta aveva era un simbolo insomma di prestanza fisica anche qui vorrei citare una breve frase di Pasolini Medea è il confronto Medea Film è il confronto dell'universo arcaico iratico con il mondo di Jasone mondo invece razionale e pragmatico Jasone è l'eroe attuale la mensa momentanea che non solo ha perso il senso metafisico ma neppure si pone ancora a questioni del genere è il tecnico abudico la cui ricerca è esclusivamente intenta al successo insomma un'altra cosa Medea si innamora di Jasone da questo punto di vista il film segue il copione più tradizionale e nella condizione di innamorata fa sì che scompaia la sua forza di maga però quando poi scopre il tradimento e si vendica torna in pieno possesso dei suoi poteri magici e anche in questo caso nella vendetta di Medea vediamo come Pasolini calca la mano sull'aspetto barbarico perché non si limita all'infanticidio che è tradizionale ma in più la Medea di Pasolini dà fuoco all'intera Stato di Corinto distrugge l'intera città la Stato di Corinto che anche questo è un aspetto interessante Pasolini per rappresentare la regia di Corinto e l'ambiente intorno a Corinto sceglie un'ambientazione invece che all'opposto di quella dell'antica Colchide la Cappadocia sceglie Pisa la piazza dei miracoli il campo dei miracoli per gli esterni e sceglie una città Aleppo della Siria per invece gli interni il campo dei miracoli nella sua prospettiva è proprio il simbolo di una razionalità di altissimo livello detto tutto questo e questa è un'immagine appunto dei cittadini di Corinto appunto si intravede abbastanza chiaramente i marmi bianchi di campo dei miracoli da quello che ho detto credo che possa diventare già abbastanza evidente come ci sia nel film un messaggio che parla del presente o meglio Pasolini in questo film tematizza quello che è un suo tema classico di cui parla costantemente specialmente negli anni 70 fino alla morte il contrasto tra due universi due mondi quello che piace di più a lui è un universo materno irrazionale prelogico l'universo barbaro appunto l'universo dell'istinto l'universo del dialetto l'universo della civiltà contadina arcaica delle lucsole ed è medea dall'altra parte c'è l'universo della razionalità tecnologica del neocapitalismo del progresso della neolingua che cancella i dialetti e questo è Giasone quindi è secondo me un modo abbastanza chiaro per capire come utilizzi il film in questa direzione in quest'ultima citazione che risiguisce Medea dice Pasolini ho riprodotto in Medea tutti i temi dei film precedenti Medea è il confronto dell'universo arcaico ierattico clericale con il mondo di Giasone mondo invece razionale e pragmatico Giasone è l'eroe attuale che non solo ha perso il senso metafisico ma neppure si pone ancora a questioni del genere è il tecnico abudico la cui ricerca è esclusivamente intenta al successo confrontato all'altra civiltà la razza dello spirito fa scattare una traseglia spaventosa l'intero dramma appoggia su questa reciproca contrapposizione di due culture sulla irriducibilità reciproca di due civiltà potrebbe essere benissimo la storia di un popolo del terzo mondo che vivesse la stessa catastrofe venerando a contatto con la civiltà occidentale scusate venendo a contatto con la civiltà occidentale materialistica discorso molto analogo si fa per Ediporè film che in realtà presiede di un anno la Medea 68 anche qui la barbarie è dominante anche qui abbiamo paesaggi primitivi qui per la tebia antica qui Pasolini sceglie paesaggi africani del Marocco in modo particolare questo è il servitore che porta il piccolo Edipo in fasce su Citerone per abbandonare poi lo darà a un pastore la vedete il Citerone rappresentato così qua si diverte a mettere una pietra miliara con la scritta in italiano Tebe molto improbabile nel paesaggio però primitivo e arcaico che non ha niente di greco o poco di greco ma a parte l'ambientazione paesaggistica qui la barbarie si incontra con la psicoanalisi nel senso che in questo film la urgenza dell'attualizzazione diventa imbediata specialmente nelle sequenze iniziali del prologo e in quelle finali dell'epilogo la vicenda mitica è raccontata nel film ma preceduta da un prologo che invece è ambientato nell'Italia degli anni venti del novecento in cui vediamo un paesaggio moderno che poi è il paesaggio di Saci della località del Friuli in cui Pasolini aveva trascorso la sua infanzia e si vede una madre che praturisce il figlio la madre è Silvana Mangano è questa il bambino che ride gioca muove i primi passi il padre che è un militare un ufficiale che prova gelosia perché la madre dedica più attenzioni al piccolo che non a lui ed è chiaro quindi l'allusione al complesso edipico freudiano e la stessa attrice Mangano la ritroviamo poi nei panni di Giocasta con il figlio marito Edipo naturalmente la figura della Mangano utilizzata nel prologo moderno e nella versione invece antica suggerisce questa istanza di attualizzazione della storia ma a parte il prologo quello che conta è anche l'epilogo per il valore simbolo che porta perché alla fine quando Edipo si acceca e qui lo vediamo uscire fuori dalla regia di Tebe dopo che si è cavato gli occhi quando ha scoperto la verità nell'ultima sequenza vediamo Edipo ceco girare in scenari moderni i portici di Bologna piazza San Petronio e poi periferie industriali della Lombardia e alla fine di nuovo la località di Sacile dove era nato è chiaro che anche questo questo ritorno alla casa natale che vorrebbe essere poi l'Edipo Colonna quello che nella tradizione greca antica è la tragedia di Edipo a Colonna cioè la morte di Edipo che in qualche modo sprofonda per terra ma diventa viene divinizzato qui il protagonista non non scompare ma si ritrova a vivere appunto a tornare a vivere in queste località dove è cieco ed è un artista suona il flauto e su questo ci torno dopo quello che invece conta è il modo in cui Pasolini ha trattato il personaggio di Edipo nel film perché è estremamente diverso da quello tradizionale Soffocleo e appunto Pasolini caratterizza il suo Edipo come all'insieme della barbarie tornando a quella immagine che dicevo prima è un Edipo barbaro in che senso barbaro? violento aggressivo tutto istinto brutale mentre l'Edipo Soffocleo è notoriamente l'eroe della conoscenza colui che vuole indagare fino a che non scopre la verità e non si ferma anche quando farebbe bene a fare un passo indietro questa caratterizzazione intellettualistica invece in Pasolini viene completamente meno Edipo è un personaggio tutto istinto come dicevo ogni tanto si copre gli occhi con una mano e si morde una mano appunto per manifestare nella prossemica questa sua totale istintualità e ci sono un paio di scene in cui la sua barbaria è manifesta per esempio la scena del patricidio quando uccide l'aio questa scena nella modello Soffocleo è condensata in pochissimi versi non più di 15 versi ed è raccontata non è sulla scena Edipo racconta a un certo punto alla moglie e madre giocasta di quello che ha fatto anni prima uccidendo un vecchio su un carro all'incrosso di tre strade invece Pasolini ci costruisce una sequenza lunghissima di più di 10 minuti in cui Edipo incontra questo vecchio scusate incontra questo vecchio con la corona in testa che è l'aio sul carro che è raffigurato nel film proprio con tutti gli attributi dell'autorità dell'autoritarismo regale ecco qui è l'aio sul carro e accanto a lui Edipo che sale sul carro e con forza brutale prima lo colpisce e lo fa cascare per terra poi uno a uno uccide ammazzate assassate 4 su 5 dei componenti della scorta e la telecamera di Pasolini induce con una compiacimento in dubbio sulla violenza sul sangue che scorre sul massacro che Edipo compie appunto ai danni di queste tra l'altro tutti armati lui ha mani nude ma gli fa fuori tutti tranne uno che scappa torna a Tebe e sarà poi quello che lo farà riconoscere come l'assassino del padre e più avanti c'è una scena corrispondente dove quando l'indovino Tiresia svela a Edipo la verità delle cose Edipo reagisce con violenza quello che nel testo soffocleo minaccia di fare a parole in Pasolini lo fa davvero quindi vediamo a un certo punto Edipo il re Edipo innervositosi per le profezie di Tiresia che non gli vanno a genio che lo condannano e si toglie la corona dalla testa la stessa corna che aveva l'aglio allora e si butta addosso al profeta picchiandolo prendendolo a botte facendolo cadere per terra compiendo un atto quindi di sacrilegio evidente questa volontà di rappresentare un Edipo così è dettata appunto ah qui scusate ho dimenticato questa immagine è proprio quando Edipo come dire colpisce con quell'enorme spadone più medievale direi che no l'antico greco il corpo di Laio questo è l'indovino Tiresia e c'è questa nota di sceneggiatura Edipo si lancia su Tiresia lo afferra per le spalle cuocendolo con la violenza Edipo lo fa rigirare su se stesso e lo sospinge con violenza per le spalle non so se cuocendolo non sia un mio refuso per colpendolo perché mi sembra un po' strano però devo riguardare non cambia molto senso mi avvio la conclusione facendo notare che anche il terzo film mitologico appunti per una restia africana che per molti anche per me tra l'altro è decisamente il più riuscito dei tre film dedicati al mito antico qui la barbaria diventa il messaggio politico che è politico ideologico che è sottinteso al tema della barbaria diventa ancora più esplicito in questo caso in questo caso Pasolini non gira un film sul mito di Oreste che torna a vendicare il padre uccidendo Critemnestra eccetera eccetera non rifà la tragedia dell'Orestiade che aveva tradotto per Siracusa nel 60 ma gira un film in cui si muove in varie località del continente africano in particolare Uganda e Tanzania per cercare dei set adatti per girare una possibile Oresteade o Oestea in Africa cerca personaggi quindi ho messo queste Pasolini dietro la videocamera ecco questo per lui potrebbe essere Agamennone è un guerriero Masai questo potrebbe essere una Critemnestra questo potrebbe essere una Elettra questo è un Oreste cerca delle facce appunto fa del casting per una per permettere in scena un'eventuale Orestea ambientale in Africa cosa che non farà mai ma che neanche mai ha pensato di fare veramente cioè il film si finge una sopralluogo per realizzare un film futuro ma in realtà il film è quello e la cosa interessante è che in questo caso la barbarie africana cioè la civiltà africana degli anni 60 con tutto il suo retaggio primitivo tribale Pasolini indugge appunto su come vivono in quegli ambienti sulla guerra del Biafra di quegli anni sulle immagini di repertorio o su certi balletti tradizionali rituali vari insomma quella per lui è una cultura arcaica che rischia di scomparire a causa della modernità a causa delle conquiste imperialistiche che vengono dall'Occidente ma anche dall'Unione Sovietica ma anche dalla Cina che hanno messo le mani sul continente africano e proponendo forme di sviluppo moderno e tecnologico rischiano di distruggere completamente la vitalità che c'è in quella barbarie che lui invece vorrebbe difendere o perlomeno il suo messaggio è quello di una sintesi necessaria per cui la barbarie arcaica dovrebbe essere preservata all'interno di una modernità che non cancelli quella dimensione originaria concludendo quello di barbarie nell'approccio di Pasolini all'antico è un concetto guida fondamentale e barbarie indicano orizzonte arcaico antico ma anche nuovo in cui dislocare urgenze e sogni di autenticità chiaramente è una costruzione ideologica un sistema complesso di segni in cui la topografia scabra inondata dal sole del marocco della cappadocia l'arcaico dei costumi interferiscono con la scadente modernità delle scene urbane generando un non tempo e un non luogo generando un quadro onirico atemporale in cui il terzo mondo preindustriale fluisce nell'occidente modernizzato e tecnicizzato con la stessa forza con cui il passato e il rimosso irrompono talvolta nel presente turbandolo e imponendogli dinamiche inattese grazie allora grazie anche a Gerardo Ugolini chiedo naturalmente al pubblico se ci sono se ci sono delle domande relative agli interventi che sono stati fatti come vedete toccati i punti cose di idea se collega terroroli io ci siamo fatti due cose in età parallele avvenute a poca distanza di tempo uno un intervento diciamo civile e l'altro un intervento all'interno di tavola rotonda di argomento artistico la disamina che ha proposto Gerardo Ugolini è fatta nel rapporto con l'antico che lui ha ben chiarificato e che è in realtà uno strumento di lettura poi del moderno contemporaneo con tutti i sostrati ideologici a cui faceva riferimento ma ripeto se c'è qualcuno che desidera intervenire a porre delle domande o ha delle questioni no mi fa piacere perché io con Gerardo e con te non avevo parlato il tema della barbarie è il tema anche dell'intervento giro malino ed è questa idea che la barbarie che noi riteniamo dalla nostra cultura classica l'altro ma l'altro visto come dire negativo per Pasolini barbarie invece è la chiave del futuro è la chiave del futuro neanche della forza della vitalità umana quanto il moderno inteso in senso borghese capitalistico è la rovina di quella cosa lì ed è interessante questa questa visione ideologica che anche su Romagnino pesa lui chiude con i barbari della Valcamonica ecco io credo che anche questa chiave che è venuta fuori meravigliosamente dal tuo intervento ci aiuti a capire e a collocare queste visioni critiche proprio nei pieni anni sessanta poi si potrebbe discutere a lungo però la validità sono io che ho toccato qualcosa e automaticamente se tu ma comunque convocheremo convocheremo Simenopero è perché vogliono la catana indietro è perché è rimasto irrisolto il delitto e quindi cerchiamo non si può escluderemo prego certo le chiedo soltanto di parlare al microfono perché ci sono persone che sono collegate in effetti è necessario data la mia voce ecco parto da Medea e lì mi sembra però di vedere che l'interpretazione di Pasolini non sia poi tanto lontana dal problema che poneva ai suoi tempi Euripide la domanda però è questa il filologo il filologo classico quello che ha studiato tragedia per tutta una vita ritiene che questa lettura pasoliniana del mondo greco come non il mondo delle belle forme classiche ma come mondo in cui si agita una profondissima realtà che in fondo non allontana troppo i greci dai barbari ecco il filologo classico pensa che possa esserci anche questo elemento che sia fondata questa lettura che Pasolini dà fondata ripeto così nei dati della filologia penso a un autore in particolare che dal versante non tanto dell'antropologia quanto della ricerca filologica molti anni fa aveva posto l'idea che i greci intanto non siano il modello del classico ma muovano un mondo estremamente magmatico e violento in fondo penso a Dodds i greci e l'irrazionale la domanda è questa grazie è una bella domanda che presupporrebbe una o forse più conferenze ma poi non posso rispondere a nome della classe di filologi classici probabilmente qualcuno dei miei colleghi che studia filologia classica non accetterebbe mai discorsi del genere ma io almeno tanti siamo vaccinati più volte con tanti booster contro il classicismo quindi abbiamo superato da decenni la visione della Grecia classica intesa come patria della armonia serenità cioè Winckelmann qualche secolo fa le tragedie greche si parlano di omicidi di padri che ammazzano i figli figli che ammazzano i padri madri che ammazzano questa è la cultura greca si basa su racconti di questo tipo quanto mai truculenti e violenti dopodiché non è che c'è questo c'è anche naturalmente la bellezza c'è Dionisia quella pollina o se vogliamo dirlo in termini nissani i discorsi appunto tu hai citato lo studioso Dodds che ha scritto i gressi e l'irrazionale negli anni 50 e dopo di lui tanti altri sono arrivati ormai sono tematiche decisamente entrate pienamente nel campo degli studi di antichistica più che più che digerite da tutti insomma che ci sia una forte componente di irrazionalità appunto di qualcosa di la costruzione greci contro barbari è una costruzione ideologica che si è inventata nel quinto secolo per celebrare i greci se stessi i barbari sono quelli che non parlano greco per la fine perché l'etimologia della parola è quella chi emette suoni incomprensibili ma sappiamo bene che i greci stessi derivano molto dalla loro sapienza e conoscenza dagli antichi egizi dagli antichi babilonesi per la matematica e l'astronomia non è che sono è passato il tempo in cui si poneva su un piedestallo aureo si credeva che fosse l'unico popolo antico che ha raggiunto l'eccellenza e tutti gli altri no mi sento abbastanza tranquillo nel dire che Pasolini non dico che abbia ragione ma si inserisce in una ondata più che desittima e allora chiudiamo la serata ringraziamo mi permetto a nome del presidente di ringraziare Valerio Terraroli Gherardo Ugolini e tutti i presenti per essere stati qui e anche le persone che sono collegate da lontano e per aver partecipato a questo incontro che mi sembra sia stato molto interessante molto partecipato e questo è un elemento di soddisfazione per tutti noi grazie mille buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti